Parte per il secondo anno il progetto Rainbow Hub. Qual è il progetto di quest'anno e quali sono le particolarità? Si parla soprattutto di uno sportello a favore delle discriminazioni, sia razziali ma anche sessuali. Sì, lo sportello Rainbow Hub nasce come sportello antidiscriminazioni, soprattutto legate al genere. Quindi è uno sportello dedicato alle persone che fanno parte della comunità LGBTQIA+, che possono accedere allo sportello in caso di bisogno. Possono accedere e troveranno quali servizi? Troveranno un servizio di consulenza psicologica gratuita e anche di consulenza legale. Oltre a percorsi di formazione per la cittadinanza, sempre sul tema LGBT, ma anche gruppi di automutuaiuto per genitori e per persone che fanno parte di questa comunità. Quando sarà aperto questo sportello? Quali sono i giorni e gli orari? Sì, lo sportello è aperto intanto grazie al Comune di Fano e grazie al Paricentro. È aperto il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 14, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. È possibile anche contattarlo via telefonicamente? Sì, è possibile contattarlo telefonicamente. Abbiamo una linea dedicata, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 366 671 4881. E chi risponde? Insomma, chi è a disposizione delle persone che hanno bisogno di un aiuto? Ci sarà un'operatrice per l'accoglienza dedicata, che anche quest'anno abbiamo individuato e che risponderà ovviamente con gentilezza e accoglierà tutte le richieste delle persone, richieste che potrebbero aver bisogno. Quindi ci sono legali, ci sono psicologi, insomma persone esperte che hanno competenze? Sì, il primo accesso avverrà appunto con l'operatrice per l'accoglienza e dopo un primo incontro si definirà quello che è il percorso di questa persona che potrebbe aver bisogno di consulenza psicologica, consulenza legale oppure di entrambe. E quindi si attiveranno tutti i professionisti che sono collegati al centro. Filippo, in conclusione dal tuo punto di vista, come vedi la situazione? È ancora molto problematica? Esistono ancora molte discriminazioni oppure si sta migliorando? Diciamo che se dobbiamo guardare a quelli che sono i dati, anche grazie all'aiuto che ci stanno dando le due associazioni arcighei collegate a questo progetto, Agora e Comunitas, la situazione non è rosea, nel senso che ci sono ancora parecchie discriminazioni. L'anno scorso abbiamo ricevuto 40 utenti nello sportello e oltre 130 telefonate. Quindi c'è ancora molta strada da fare e come ha citato anche oggi il presidente di Comunitas, Marchegiani, la nostra speranza è che questi centri diventino assolutamente inutili perché significa che le discriminazioni saranno terminate.